Ciao ragazzi, benvenuti in questo prossimo video Oggi siamo su Bello Stas Sempre con l'amichino Peter AyaF102 Ciao amici! Oggi faremo un altro box opening Esatto, come potete vedere io ho 9 casse gruangione e 102 piccoline Ne aprirà 102 piccole e 4 enormi Devi muoverti perché 102 sono tante però clicca qua soltanto lì giù non clicca anche lì ragazzi non sai quante monete troverai tu devi dire cosa devo trovare l'abilità stellare di colt, ora la trovo poi lì dopo l'abilità stellare di bulo, un'altra abilità stellare di bulo un'altra abilità stellare di colt poi dopo li mancano tante monete, guarda il tuo brawler e il tuo profilo li mancano che culo li manca ehm maxine leon corvo poi dopo li manca maxine, leon, corvo e mister p basta credo lui c'ha 28 brun l'arriano 29 di sicuro qualcuno lo troverai di sicuro dai mister p per me mister p è quello più famoso se trovi un leggendario veramente sono il primo della classe ad averne due si perché non sono una due no leon c'ha corvo e spike leon corvo e spike cavolo è mio questo qua non è mio magari aspetta vediamo quante eh 2000 aspetta che c'è ancora gente da migliore acqua eh aspetta che lui si spegna allora tipo guarda devono essere più di 550 guarda ehm posso? la vita posso? la vita posso? si si che puoi no no non posso 1055 provaci provaci però riprova di nuovo no vedi mi manca uno di pochissimo eh si pieto c'ho 23 monete vabbè ecco intanto con il titolo continua ad aprire cazzo non sto parlando ho già 14 giorni però tu li vuoi portare tutti al 9 io non ho benissimo io non ne ho neanche uno al 9 c'è qualcosa nel negozio? si lo so ti si è tolta aspetta perchè ora ti si è tolta e ora ti è venuta quella perchè aveva quella 99 gemme c'è lo sconto io non c'è mai non c'è mai anche io c'è 14 gemme batte il 5 ma vabbè dai 8 punti per scegli buono anzi 10 punti per scegli buono frank è buono anche lui scegli buona niente buono è buono frank tic tac tic tac tic tac dai voglio trovare qualcuno io 5 gemme non puoi più battere 5 tic tac tic tac tic tac tic tac madonna se avessi nel video dove apre un faccio il box e un link trovo 5 gemme siamo buoni tic tac tic tac tic tac tic tac tu credo che hai trovato quello con lo scuro credo quello di colt no hai trovato quello di bull col colt non mi so ehm quello no è quello dello scuro credo eh credo che hai trovato no e madonna ci intoccassi io ne trovo uno di bull ma perry non ti puoi lamentare perchè l'altra volta ero aperte anche una mega cassa io non ho trovato niente non trovo si no ma guarda le probabilità se no è via aspetta no ma con semi non funziona funziona sempre guarda le probabilità no aspetta ma ora ma esistono anche le probabilità di vedere le gemme per caso cioè forse andare a guardare no c'è la probabilità c'era poi no non so non so come si fa c'è la probabilità di vedere come puoi trovare il bonus che buono sono biglietti e doppiaggettoni gemme eh ora non so più no non so come si fa vedere vedi c'è ma quanti da doppiaggettoni c'ho madonna c'è che ragazzi ne ho già 38 comincia a scasseggiare qua le cassettine io le apro tutte quelle grandi tutte? vabbè io scegli io vado un attimo vado offline quante volete please 5 gemme altre io sono offline ok lui è offline ho 30 gemme ho 30 gemme però ho 33 se trovi il mister p ti puoi c'è però la skin agente lì io sono l'unico che ce l'ho agente più credo nella mia classe no ce l'ho anche Leo no Leo c'ha soltanto il mister p 5 gemme quante gemme che stai trovando ui cosa scegli nelle norme per me trovi qualcosa perché anche l'altra volta nelle norme hai trovato un brawler bea mmm 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 però l'altra volta forse hai avuto un po' più di fortuna si ancora hai trovato acqua ehi ragazzi ci sono le nostre sorelle ci sono le sorelle un po' rompi palline che un po' rompi palline che dopo stoppiamo se arrivano si infatti ci vengono un'altra volta le meno le meniamo perché io meno la mia lui meno la sua vai fuori 800 biglietti ma vai 300 mmm fa un po' smigli anni da noi dovete fare altri punzi aspetta forse posso oh no 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 ho visto che non puoi poi non avresti le monete no ce l'hai le monete io voglio se ce l'ho di monete fammi vedere quante monete vedo il primo no potrei no no non puoi non puoi ne manca ancora vai continuo mister p dai si si andiamo vai continuo continuo dai che voglio trovare con le gendere qui hai visto te l'ho detto guardi voglio giocare agente p domani forse si esce agente p e compratelo così sei sicuro che ce l'hai aspetta che c'è ancora niente eh mancano tipo neanche 5 sono fly ma perchè non mi metto fly da te ah perchè non sono uscito dal gioco del tutto ecco tutto lì no bene non so capito ecco ora sono appena ma l'ho finito ragazzi aspetta guarda cosa ti metto ho 29 io ecco te bene guarda cosa ti metto ah agente p bebe ma vai apri tutte apri aspetta fermo ogni volta che trovo il nuovo brawler lampeggia puoi portarlo noo di 4 guarda nel negozio guarda ascegli guarda nel negozio no non ce l'ho 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 punti per niente ragazzi dai devo trovare 50 punti per coso bello oh matis ma trovi sempre telegenna scusami cos'è sta mafia dove dai oh ho nita o scemi veramente 50 punti per via madonna oh grande grande fratello grande tra genna ancora madonna dai vai 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 dai 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 non c'è nita non c'è non c'è nita 10 gem madonna ma c'hai 66 gem no io ho 66 gem 314 biglietti ma perchè ti metto ah allora metti tanto da già migliore si migliorano guarda 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 una ti mancano due abbinità stellari che bello madonna ragazzi vabbè io ci voglio rifarlo dal mio Harry perfetto perfetto devo intanto migliorare un po' di genzi qua meglio ne hai trovati 50 io voglio si infatti ma quanti c'è guarda nel negozio perchè eeeh bella non ti preparo niente però era bello se ti fermi con lo spagnolo quanti punti stellari hai? ok facciamo del mio ok ragazzi per questo video è tutto ci vediamo nel prossimo video che vediamo dal unboxing dell'alatronico ciao saluta ciao 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 ciao